Ben trovati all'ascolto da Dele Di Rapni. Oggi per il nostro spazio aperto è con noi l'ingegnere Nicolo Scalzo. Si è dedicato allo sviluppo di programmi di intelligenza artificiale e appassionato al problema della coscienza umana, della sua origine e della sua funzione. Ha intrecciato questo interesse allo studio e alla religione cristiana e in modo particolare ai Vangeli sinottici e alla figura storica di Gesù. Un argomento quest'ultimo che ha coltivato per anni. A metà del 2015 con la casa editrice milanese Ipoc pubblica un piccolo saggio dal titolo Gesù Ateo. Buongiorno dottor Scalzo. Buongiorno. Buongiorno anche ai nostri radioascoltatori. Incomincerei proprio dal titolo del suo libro. Gesù Ateo. Ci può spiegare i motivi di un aggettivo così impegnativo? Eh sì, i motivi sono diversi. Il primo paradossalmente nasce dall'esperienza che ho avuto con i fedeli cristiani, perché quando incomincio a parlare del Gesù storico, loro ho constatato che li coinvolgo profondamente. Se da un lato questa cosa mi fa piacere, però dall'altro mi sento caricato di una grande responsabilità, perché il mio interesse per questo argomento è soprattutto di carattere storico e scientifico. E quindi esordire, parlando dell'ateismo di Gesù, mi consente di creare una distanza tra me e il credente. È una forma di rispetto che io devo nei confronti della fede, perché la fede per molte persone ha un significato esistenziale, profondo. Ma lei è ateo? Io sì, sono ateo, però non condivido, diciamo, l'atteggiamento ideologico che spesso alcuni atei hanno. Difatti l'ateismo non può essere vissuto come un'ideologia e preferisco pensarlo come un fiore selvatico che deve sbocciare da sé, non considerando anche il fatto, anzi soprattutto, che l'ateismo di per sé implica una certa robustezza d'animo. Non è un qualcosa che può essere vissuto alla leggera, richiede un animo forte. Ritorniamo al libro, perché definisce Gesù ateo laddove i Vangeli lo identificano chiaramente come un credente? Sì, in effetti questa nozione di ateismo è stata già discussa da molti autori cattolici. Ad esempio mi viene in mente il bellissimo libro di Vittorio Messori, Inchiesta su Gesù, il quale, a un certo punto, dice quasi in maniera paradossale che il cristiano non può non essere ateo. E in un certo modo questa è un'esperienza che i credenti conoscono bene, perché se noi guardiamo la Bibbia, la Bibbia cristiana, ci accorgiamo che esiste chiaramente un confine che la divide in due, è un confine che demarca un prima di Cristo e un dopo Cristo. Nell'Antico Testamento Dio è una figura piuttosto autorevole, mi lasci anche usare il termine cattiva. Nel Nuovo Testamento invece il concetto di Dio viene ridefinito, viene caricato di umanità. Dio addirittura diventa papà, letteralmente papà. E quindi diciamo è in questo senso di discontinuità che va inteso l'ateismo. L'ateismo che non significa credere in nulla. L'ateo non crede in nulla. Chi crede in nulla è unichilista e non si può vivere senza credere. Semplicemente l'ateismo porta a ridefinire il concetto del divino. E questa ridefinizione tutto sommato lo fa anche il cristianesimo quando identifica il divino nell'uomo, soprattutto poi l'uomo nella sua condizione più fragile e più debole, quale è quella della donna e del bambino. Ho qualche riserva sul Dio cattivo dell'Antico Testamento. Potrebbe comunque essere più chiaro, perché ancora mi sfugge proprio in che senso si possa parlare di ateismo nei Vangeli. Sì, ad esempio c'è un brano bellissimo nel Vangelo di Matteo dove Gesù rivolgendosi ai suoi contemporanei dice vi hanno insegnato ad amare il prossimo e ad odiare il nemico, ma io vi dico amate il vostro nemico. Bene, questa è una frase che si comprende bene solo alla luce di questa ridefinizione del divino, perché è indubitabile che in genere la tradizione religiosa fa questo quando viene vissuta in termini fondamentalisti, cioè insegna ad amare chi la pensa come noi, chi crede nel nostro stesso Dio e ahimè purtroppo ad odiare fino alla morte letteralmente chi invece non la pensa come noi. E quindi diciamo la religione spesse volte, troppe volte finisce con il dividere, insegna sostanzialmente questa divisione. E invece Gesù sfida nel profondo non solo la religione, ma anche diciamo così l'istinto dell'uomo che di fronte al nemico tende ad avere un atteggiamento di ostilità e Gesù questo lo impedisce. Gesù dirà vi hanno detto e lo fa con una certa autorevolezza, ma io vi dico. Sì, infatti è proprio questa centralità che Gesù assume su se stesso che è proprio espressione della sua rivoluzione, perché nessun ebreo avrebbe potuto farlo. E Gesù lo fa con un titolo paradossale, è il figlio dell'uomo, che sostanzialmente in quell'ambito significa semplicemente l'uomo. E quindi Gesù è un personaggio meraviglioso e si carica. Io rimango, ad esempio, mi colpisce profondamente l'atteggiamento che Gesù nel Vangelo di Marco ha nei confronti ad esempio della persona malata, quando lui lo guarisce di sabato. E questo è un fatto scioccante. È come se Gesù dicesse, ma insomma, voi pensate, perché questo spesso pensavano le persone, che è una persona malata perché è stata condannata da Dio. Ma possibile mai che è il divino? Il divino, proprio nel momento in cui viene messo in ginocchio da una malattia, voi lo abbandonate. Ebbene, io vi dico, io sono il Signore del sabato. E cioè, il sabato è stato fatto per l'uomo e non viceversa. E questo, secondo me, lo si comprende bene, in quest'ottica paradossale di ateismo, però, torno a ripetere, che non esclude il divino, lo ridefinisce. E lo ridefinisce nell'uomo nel momento in cui è più debole, è più tenero, è più delicato, ha bisogno di protezione nel bambino, nella donna, nel nemico. A proposito della donna, lei fa un esempio interessante nel suo libro. riguardo la pericope dell'adultera. E infatti, questo è tipico. Ce ne parli un attimino? Sì, perché le persone, questo gruppo di ebrei, si presenta di fronte a Gesù per sfidarlo. E lo sfidano vestendo la maschera della Bibbia, perché nell'Antico Testamento è scritto che una donna che tradisce il marito deve morire a colpi di pietra. E Gesù qua viene messo alle strette, perché se dice che la donna deve vivere, sta tradendo la parola di Dio. E allora che cosa fa? Gesù pone la responsabilità addosso alle persone e gli dice, io non vi dico di non uccidere, però se tu devi uccidere, caro Nicolò, fallo a tuo nome, non dirà a rimballo Dio, non mettere la maschera nera e oscura della parola di Dio, fallo a tuo nome, perché così come tu giudicherai, sarai giudicato. Ma questo è bellissimo, perché questo è il momento che secondo me distingue il cristianesimo ad ogni altra forma di monoteismo. Dio non può essere il generale che sta nei cieli e che scende sulla terra a giudicare. L'esperienza di Dio nella parola di Gesù diventa, assume la qualità della persona e l'amore che dai, che ti qualifica agli occhi del divino. Per cui non vale a niente la tua competenza sulla Bibbia, tutte queste cose, sono addirittura cose che ti allontanano dalla tua luce, dalla tua umanità. Invita quasi Gesù a metterci al posto dell'adultera. Pensiamo quest'anno al Giubileo della Misericordia, allora se vogliamo misericordia, impariamo noi per primi a essere misericordiosi. A questo riguardo mi viene in mente la particolare insistenza di Gesù anche sul fatto che bisogna ritornare piccoli, come bambini, ed è un punto in cui lei nel suo libro insiste moltissimo. Insieme al fatto che lei usa molto per sopportare i suoi argomenti anche il Vangelo di Tommaso, sul Vangelo apocrifo, ce ne vuole parlare. E in effetti nel Vangelo apocrifo di Tommaso la figura del bambino diventa assolutamente centrale, addirittura nella sua forma ancora più minima, più piccola, perché in Tommaso è presente quasi unicamente la dimensione del neonato, del bambino piccolo. E questa è un'idea, è un'immagine che a me piace molto, perché riagganciandoci alla visione che il Vecchio Testamento ha di Dio, che lo vede come il Signore degli eserciti, invece Gesù nella sua opera vuole dire questo, che il Divino si manifesta nella vita degli uomini sotto forma di un neonato nudo. Cioè non viene per salvare, ma viene per essere salvato. Non viene ricco di potenza, ma si presenta nel suo aspetto più debole. E fa questo perché chiede all'uomo in primo luogo protezione e amore. È importante, come dicevamo prima, che l'uomo creda in qualche cosa, perché nella qualità delle cose che crede si esprime la qualità dell'uomo. E allora se l'uomo insegue tradizioni che non fanno altro che dirgli tu sei l'eletto di Dio, il tuo popolo è il primo al mondo e gli altri ti verranno sottomessi, ma che qualità di vita hai? Che prospettiva hai? Invece concepire il Divino in maniera paradossale, come un neonato che ci viene messo in mano e di cui tu hai la responsabilità di non farlo morire. Ma questo è il più grande paradosso ed è un paradosso che esprime al meglio quello che secondo me sarà il futuro della religione, perché se la religione vuole avere un futuro in un mondo ricco di tecnologie in cui la tecnologia dà un potere enorme nelle mani dell'uomo, l'uomo deve imparare ad essere piccolo, perché ha potere, perché qualsiasi azione che l'uomo fa rischia di creare un danno devastante. Cioè ci immaginiamo una persona che crede di avere nella testa e nel cuore la parola di Dio con un kalashinov in mano che cosa può fare. Abbiamo di esempi. E ne abbiamo di esempi. Invece ritornare piccoli come bambini per lei significa impedire che la Bibbia stessa possa diventare un idolo. Esattamente. E capisco che questo punto risulti paradossale per molti credenti. Però noi diciamo che l'opera di Gesù sia molto chiara in questo senso, cioè non si può anteporre all'amore per l'umanità niente, nemmeno le Sacre Scritture. Esattamente, bravissime. Questo coglie il senso. C'è invece una forma di fede che lei sembra, insomma, ammirare. E ne sono rimasta colpita. Ad esempio, il suo richiamo a Papa Giovanni XXIII. Assolutamente, sì. In effetti, per me è stata anche una grossa sorpresa. E voglio un po' raccontare l'episodio. Guardavo distrattamente la televisione ed a un certo punto vedo un sacerdote che parla in maniera molto animata. La cosa mi interessa. Alzo il volume e subito dopo vedo le immagini di Papa Giovanni, il Papa Buono, che parla di fronte ad un pubblico e dice delle cose di una semplicità e di una profondità meravigliose. Arrivo ad un certo punto, questo Papa dice che quando lui recita il Rosario ed è al terzo mistero, quando Gesù si manifesta bambino, ecco dove viene il bambino, e quando dice questa parola bambino si vede il Papa che fa un gesto delicato, come voler appoggiare sul tavolo di fronte a sé un bambino piccolo. E dice queste parole testuali e inizia il grande compito di unire l'umanità e la divinità. Ebbene, questo Papa identifica questo compito con l'immagine bella e delicata del bambino e aggiunge in maniera molto precisa, dice, non solo il bambino, figlio dei cattolici, in modo particolare chiaramente dei cattolici, ma tutti i bambini. Ecco che la dimensione del bambino non può conoscere barriere culturali, geografiche, di religione. Giustamente il Papa dice tutti i bambini, perché di fronte a un bambino l'unico sentimento che possiamo avere è non pensare a Dio, è pensare all'amore che dobbiamo dare. Quindi Gesù appare bambino non come un generale degli eserciti, ma un bambino che insegna ad amare proprio l'umanità che c'è ognuno di noi. Quindi si fa bambino per insegnare agli uomini e ad amare gli uomini. Siamo in chiusura, grazie dottor Scalzo per essere stato con noi, è davvero una riflessione interessante che richiede comunque altri momenti di approfondimento. Grazie. Buon proseguimento di giornata a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie a tutti i nostri radioascoltatori.